Provvedimenti temporanei di circolazione sono stati disposti per consentire lo svolgimento in sicurezza della festa di fine anno nelle piazze Duomo e Università. In particolare è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, dalle 20 alle 24 di oggi e dalle 14 di domani alle 9 di lunedì 1 gennaio. In via Etnea, tratto compreso tra via Antonino di San Giuliano e piazza Duomo, via Garibaldi, tratto compreso tra piazza Duomo e piazza Mazzini, via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra piazza San Francesco d'Assisi e piazza San Placido, piazza Università, piazza Duomo, Porta Uzzeda, via Biscari, via Vasta, via Mancini, via Collegiata, via Fragalà, via Lapiana, via Euplio Reina, via Roccaforte, via Santa Maria della Rosario, via Radusa e via Merletta. Negli stessi tratti viari, su entrambi i lati, è stato istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto per quelli autorizzati.